andiamo direttamente a grado l'isola del sole perché si è svolta una manifestazione molto particolare e noi siamo ovviamente vicini a questa loro iniziativa un abbraccio per la pace è il tema e titolo dell'evento che si è svolto recentemente nella suggestiva città di grado l'isola del sole l'iniziativa contro la guerra in ucraina è promossa da grado attivo e da cron con il coordinamento di agostino doriano una passeggiata lungo la diga fino ad arrivare all'altezza del palazzo municipale per poi proseguire verso la basilica ed infine il rientro verso la zona della costa azzurra un serpentone di 350 persone per chiedere la pace in ucraina grazie a tutti